Gesù fa sua tutta l'espressione della rivelazione dell'Antico Testamento ma aggiunge non dolgo ma do pienezza. E qual è la pienezza che il Signore Gesù dà alla legge? Qual è la pienezza che ci garantisce di non saltare da una parte all'altra? Pieno compimento della legge è l'amore. Quando più il nostro rapporto con Dio è vissuto non nella mera fedeltà a delle norme da seguire per evitare chissà quali castighi ma quando il nostro rapporto con Dio è impegno di amore allora lui prende la pienezza della nostra vita, dei nostri atteggiamenti, delle nostre scelte. Lui diventa l'unica ragione d'essere. In questa fedeltà raggiungiamo la pienezza dell'amore che viene solo da lui. Dio è amore e nella misura in cui quest'amore si diverbera e diventa l'ossatura della nostra vita. Ciò che muove ogni nostro atteggiamento noi raggiungiamo la pienezza e la pienezza dell'amore non può che essere la bellezza e la contemplazione del volto di Dio.